Il Paradiso, puntata 30.01, Matilde accusa di mettere Sizzania nella sua famiglia. Nella puntata di lunedì 30 gennaio del Paradiso delle Signore, il ritorno di Marco smuoverà i sentimenti della sua ex fidanzata Gemma. Inoltre tutto lo staff del magazzino si chiederà perché Stefania non sia tornata a Milano insieme a lui. La presenza del giovane di Santerasmo a Milano porterà anche alla luce i difficili rapporti con Tancrediche. Nonostante si mostrerà diverso non riuscirà a conquistare la fiducia del fratello. A tal proposito Matilde deluderà profondamente Vittorio, accusandolo di mettere Sizzania nella sua famiglia. Intanto Marcello e Adelaide si rivedranno dopo aver ceduto alla passione, per decidere come comportarsi da ora in poi. In casa sanatta, non si farà altro che parlare del ritorno di Marco a Milano. Infatti, il suo rientro smuoverà profondamente Gemma, che continua a provare dei sentimenti nei confronti del suo ex fidanzato. Intanto, all'interno dell'atelier di moda, tutto lo staff si chiederà il motivo dell'anticipata ricomparsa del nipote di Adelaide e soprattutto perché non sia tornato in compagnia della sua fidanzata Stefania. Nel contempo, la presenza di Marco metterà anche in risalto la difficoltà del suo rapporto con Tancredi che, nonostante sembri essere cambiato agli occhi della moglie Matilde, non riuscirà a trovare un alleato in suo fratello Marco, il quale non ha dimenticato i dissapori del passato. Successivamente Marco confiderà a Vittorio i dubbi che nutre nei confronti del fratello maggiore e del suo improvviso cambiamento verso sua moglie. Il proprietario del paradiso non potrà far altro che appoggiare l'idea del ragazzo, in quanto anche lui non riesce a vedere del buono Intancredi. Ben presto Matilde si intrometterà nel discorso e difenderà suo marito attaccando il suo socio. Nello specifico, la signora Frigerio, inaspettatamente, accuserà il dottor Conti di creare zizzania all'interno della famiglia di Sant'Erasmo, le parole della donna deluderanno profondamente Vittorio. Marcello Barbieri e la Contessa dell'Aide sceglieranno di vedersi nuovamente dopo aver trascorso un'imprevista notte insieme. Infatti, i due soci in affari hanno ceduto alla passione dopo essersi presentati insieme alla festa di fidanzamento dei propri ex compagni. Durante l'incontro i due decideranno quale tipo di relazione intrattenere da quel momento in avanti è come comportarsi in pubblico. Si zici ca stom for, la cum ma comport, intreaba asta nu-i loc de confort, rigor si omor tot. Sunt un crucișetor, lansand rachete aerosol, inca de cand el era broke si se usa de aerosol. De cand avea mall, de cand nu stiai ce un miscol, de cand ascultam gangsta rapper, baza pe pistol. Daca nu intelegi textul, suno pe Irina Nistor, va intalniti in tristor, la zero grade viscol. Nu tag nici stins mort, o sa mauzi prin sol, transmir hip-a prin pori, bile mari din tor. Ca stii ca dupa trimit ciocan umane, inspre cer si dau jos carul mare, astrologia treaba ca urmare. Sunt dus cu capul, dus cu capul, zic, jos patescu, jos ponta, sus cu rapul. Ambitie, traditie, asta m-a dus cu rapul, decat mai toti ziceau ca...